festa della mamma un fiore che non appassisce mai l'anno stop è partita alle 10 di questo mattino con l'esposizione di tutti i prodotti artigianali realizzati dal laboratorio artemani e dal gruppo le comare con uno spazio dedicato anche al gruppo second hand solidale con capi vintage e borse rivestite di vecchi jeans rimessi a nuovo pronti ad una seconda vita nell'abbigliamento inoltre troviamo una vasta gamma di oggetti dalle collane alle bambole fino a piccole raffigurazioni di animali oggi domenica 12 maggio in occasione della festa della mamma all'abbraccio un gesto d'amore si compie non solo per la mamma ma anche per i più fragili infatti tutti ricavati andrà in beneficenza per sostenere le attività delle associazioni